Ciao ragazzi, sono Valentina Lattanzi e benvenuti in un mio nuovo video Oggi ci rischiamo con la challenge dello shopping colorato Come vedete, oggi ho un bel vestitino lilla o viola Anche se alcuni di voi secondo me lo vedono tipo azzurrino Perché non mi ricordo quale mia amica Lo vede tipo sull'azzurrino, non so come mai Mi manca proprio questo colore Perché ho fatto shopping colorato di colore rosa Azzurro, rosso e giallo E quindi un bel viola lilla ci sta secondo me Chloe, ma questa volta vieni anche tu con me, vero? Non mi sembra molto dell'idea Oggi è presto, Alexa, chiude sono? Sono le 9.52 del mattino Sono le 9.52 del sole Grazie, grazie Alexa Ma adesso siamo pronte per uscire E sono curiosa proprio di vedere quello che trovo Andiamo Andiamo a fare il shopping Eccoci arrivati nel nostro negozio Adesso entriamo Spero di trovare qualcosa di color lilla Ok raga, diamo un'occhiata Piano, Chloe Già ho trovato qualcosa Fiori Cartoncini Chloe, ti vedo Belli questi Mi sono un po' una cavolata Non mi serviranno mai Però Andiamo a fare per qualche regalo Belli Presi Andiamo Vieni 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 Che bello Io lo voglio Che cosa è sto coso? Tipo di do Quanto costa? Aia Ho picchiato la testa Che male Ah io ho picchiato la testa qui Bello lo prendo Ok Vieni Chloe Andiamo andiamo Vediamo se qui trovo qualcosa di bello Ferma Ferma Qui ho trovato tipo dei glitter Carini Boh magari mi servono per fare qualche cosina Boh Vabbè prendo anche questi Io direi di prendere dei fiori Che fiori prende la mamma? Prendiamo questi? Che belli Chloe Anche questi Via Che casino Chloe Il carrellino Raga Spazzola Ne ho bisogno anche Ma questa no Prendo questa Qual è meglio? Questo o questa? O questa? Facciamo Questa che Anche lo specchio dietro Ma è scorta Prendiamo questa Guardate che cosa ho trovato Un sacco di candele Raga sono bellissime Eh ma mi sa che qui le devo prendere Cioè questa qui bellissima Bella lilla Forse questa è ancora più viola Come il mio vestito Quale prendo? Quale prendo? Forse prendo tipo questa No Però anche queste ragazzi Sanno Dai vabbè prendo queste Dai vabbè ho trovato questo Io lo regalo Chloe Guardiamo se trovo qualcosa di lilla O violetto Magari qualche quadernetto No raga Quaderni Lilla o viola Non ci sono Raga Trovata Presa Ho trovato queste ciabatte Ma sono un po' deformate Solo che costano pochissimo Oh sono comode Io me le prendo Ma si dai Per l'inverno Presa Abbiamo già trovato un po' di cose Raga Però vediamo se magari anche qui Troviamo qualcosa In questo angolino Ho trovato anche questi Raga Guardate che belli Questi sicuramente mi serviranno Per qualche lavoretto Prendiamo Vediamo che cosa ho preso Sino da adesso Però non c'è molto Chloe però così non vedo Via No Ho deciso di prendere anche questa candelina Ma è meglio questa O questa Dai prendo questo Ho capito Ah qui a casa col bricolage Sentite quello che lavora qua Vedere che possiamo andare Ho preso un po' di ciamperosaglie Andiamo al parco amore Dai Siamo appena scite dal negozio Ho comprato un po' di cosine E questo è uno dei giochini Per Chloe Sì l'ho tirato fuori Perché è un cammino ogni tanto Vuoi capricci? Ti piace? Ti piace? Dai giochiamo dopo con questo a casa Che se no lo sporchi tutto One eternity later Le ho levato l'etichetta Perché se no Tu te la mangi Vero? Dai Nel mentre vi mostro Quello che ho comprato Non possono mai mancare Di fiorellini Questi li trovo praticamente Di tutti i colori eh Il problema è che non sono Le martelli adesso Cosa me ne faccio Di questi fiori? Poi vedo Che cosa farmele Appoggiamoli qua Chloe non sono per te Poi ho preso Ciabatte Che brutte No dai Non sono bruttissime eh Sono comunque per l'inverno Ma sono lilla almeno No Bellissime Chloe queste ti piacciono? Madonna Sono fortissime Queste sono la lavanda Che non mi piace Forte Fortissima Bellissime anche queste Mettiamo tutto qui Questi sicuramente Te li userò per qualche regalo Magari a Natale O per qualche compleanno Guardate che bellini E sono tipo Dei Degli strass adesivi Diciamo Lascia No Lascia Sono nuovi eh Non è che non li devi rompere subito Questo bellissimo Cioè Come ritornare bambini In due minuti Questa è Argilla Modellante Ultra Ultramorbida Leggera Ultrapulita Non tossica E non macchia È morbidissima Bellissima Mi vedete conto delle cavolate che compro Però vabbè dai Questa qui secondo me mi serve Poi vediamo Altri glitter Sì questi sono un po' Tresso però Sinceramente Avevo trovato pure Dei vestiti Lilla Sì Merano cose orribili Cioè tipo Vestiti Delle nonne Non lo so Cioè Quei vestiti da signora Capito Tipo magliette larghe Un po' lunghe Con dei brillantini Farfalle glitterate Orribili Ho deciso di comprare Quindi tipo Più oggetti Accessori A proposito di brico Madonna Ma Chloe Cioè Ma sei troppo curiosa te A proposito di regali Visto che tra un po' Si avvicinano Dei compleanni Ho comprato Questi glitter Bellissimi Guardate Che tipo colla Colla glitter E poi questi Che sono veri E pop E pop Veri e propri Brillantini Candela Visto che le altre Non è che bastano Non ditemi che anche questa La Sì ma non è che Se fate le candele Viola Devono essere Per forza La lavanda Cioè se me la lavanda Non piace Non potete far vedere Un'altra fragranza Poi ci mancano Le ultime due cose Ho trovato Questa Agendina Carinissima Pensavo sinceramente Di trovare Un bel quadernetto Su cui scrivere I miei appunti Video Ide Cose da ricordarmi Ma alla fine Ho trovato Questo Che comunque È carinissimo No guardate E come ultima cosa Una bella spazzola Ne avevo proprio bisogno Guardate che carina Tipo sull'illa E c'è anche Lo stesso A proposito Adesso vi faccio vedere Bene da vicino Faccio una ripresina Delle cose che ho comprato Guardate Non tu Chloe Perché qua La parola guarda La sa Capita E quindi giustamente Guarda anche lei Comunque Qual è la cosa Che vi piace Di più E il tuo nuovo giochino Ti piace Non è che mi sembra Che ti piaccia Così tanto Vediamo Dai Uno Due Tre Brava patatina Vieni Ora salta sopra Queste cose Ci scommetto Vieni Chloe Dai Non gliene frega niente C'è calpesta tutto E niente raga Ho finito di mostrarvi Tutto Io spero che questo video Vi sia piaciuto Commentate qua sotto E consigliatemi Qualcos'altro Qualche altro video Da registrare Oppure Qualche altra challenge Sempre Nello shopping Perché come l'avete visto Diciamo che sono le challenge Che mi piacciono di più Ora vi mando un bacio Nei gambi grandi E io e la fessacchiotta Andiamo al parco Dai prendilo al volo Due Tre Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Così Grazie a tutti.